C'è la camera accesa, non mettermi la leggo in bocca, che non è bello. Non voglio guardare il teatro! 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 Se tu sei sopra e ti dicono cosa, neanche se mi fai un po' di poter essere in mezzo! O muove il teatro di teatro! Per glaube il mezzo solo in mezzo un po' di poteraggio! C'è quel contagio? Incierto! Grazie a tutti Non avete mai provato, chiedevo Dai penso di sì